Musica Sono molto emozionato perché questo qua sarà l'ultimo saggio in questa scuola Sono felicissima Sono molto emozionata anche un po' in Antia Sono felice anche perché possiamo far vedere ai nostri genitori in tanto tempo, in tutto quest'anno, cosa siamo riusciti a fare Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.